E in programma sabato mattina la manifestazione promossa dai comitati Sassari si muove e segnala a Sassari. L'obiettivo degli organizzatori è ottenere risposte certe dall'amministrazione comunale, riguardo a temi fondamentali per la città, quali i disagi per la realizzazione delle piste ciclabili, i problemi delle borgate del centro storico, ma anche i ritardi nei pagamenti delle leggi di settore e di servizi di Abanoa. Il corteo partirà alle 9 da Piazza Castello e arriverà a Palazzo Ducale. Non è la prima volta che due comitati organizzano eventi di sensibilizzazione di questo tipo. In particolare l'indice è puntato sulle piste ciclabili e il mantenimento della zona traffico limitato nel centro cittadino. Due punti sui quali le richieste rimangono le stesse. Innanzitutto si chiede di modificare il tracciato delle piste ciclabili e liberare Via L'Italia, dove i commercianti da mesi sono prigionieri di cantieri di cui non si vede la fine. Dello stesso tenore la sollecitazione relativa alla ZTL va rivista al più presto.